Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci al nostro ormai storico notiziario del MAG e degli eventi e delle attività che settimanalmente noi comunichiamo. Ci siamo già rivisti dopo la pausa estiva la scorsa settimana e oggi per noi un notiziario particolare, un momento anche istituzionale di estrema importanza. Infatti vedete che sono accompagnata dagli ospiti illustri che vado subito a presentare e anche a motivare il perché, che giornata è, che cosa stiamo presentando. Alla mia destra accanto a me c'è la Presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Varese Elena Brusa Pasquè che saluto moltissimo per la presenza oggi. Il Presidente della Fondazione Pio Manzù, Giacomo Manzoni, grazie per la tua presenza. Il coordinatore della Commissione Design dell'Ordine degli Architetti di Varese è Giorgio Caporaso, grazie. Allora, questa presenza così particolare, così unica e direi innovativa nel nostro notiziario, ma soprattutto nelle attività del museo, è dovuta a un nuovo accordo, una nuova convenzione triennale che MAGA ha stipulato con l'Ordine degli Architetti della provincia di Varese, una convenzione ampia, articolata, che getterà una programmazione futura per il prossimo triennio, quindi una programmazione che ci vedrà insieme affrontare delle tematiche importanti relativamente alla cultura, all'architettura, al design, alla promozione anche educativa e formativa, quindi una convenzione impegnativa nata dalla ideazione di Elena Brusa Pasquè e devo dire anche di Marina Bianchi, che non è qui con noi, ma che ringraziamo proprio per lo stimolo che ha dato a questo nuovo accordo. E l'accordo è dettato proprio dalla consapevolezza dell'importanza dell'Ordine degli Architetti, di tutti i professionisti a cui l'Ordine si rivolge, nei percorsi formativi ma anche di approfondimento e nell'importanza che MAGA dà ad affrontare quelle tematiche che magari apparentemente non sono nella nostra specificità come architettura e design, ma che invece noi amiamo molto toccare e affrontare avvalendoci dei professionisti, avvalendoci di coloro che entrano progettualmente e anche proprio professionalmente in questo ambito. Tanto che Elena lo affronterà subito, la prima grande proposta saranno quattro incontri dedicati al design con cui apriamo una nuova programmazione formativa, educativa, ma anche proprio di progettazione sulle questioni legate al design che ci caratterizzerà nel prossimo anno e che partirà a brevissimo. Oltre a ciò, la Convenzione pone anche una serie di obiettivi comuni che sono relativi alla comunicazione congiunta per i MAGA. È molto importante arrivare anche ad un pubblico specializzato come quello dell'Ordine degli Architetti e anche a una promozione delle nostre attività, al di là dei corsi che faremo, degli incontri, dei convegni, delle conferenze, una promozione che permetterà a tutti coloro che sono poi Elena il Presidente dell'Ordine, lo dirà meglio, permetterà a chi visita il MAGA, a chi visita le nostre mosse, di rilasciare i crediti formativi che sono un aspetto significativo per i professionisti e anche naturalmente per noi. Per cui questo è il quadro in cui ci muoviamo. Oggi presentiamo la prima importante iniziativa che ci seguirà nei mesi autunnali e poi vi terremo naturalmente aggiornati per le iniziative prossime e future. Grazie intanto ai partecipanti. Io passo la parola a Elena Brusa Pasquè. Grazie Emma Zanella. Ringrazio insieme a te anche i Presidenti Angelo Crespi e Sandrina Bandera per l'ospitalità perché anche la firma di questa convenzione con voi per me rappresenta un momento molto importante come il momento in cui abbiamo firmato anche la convenzione con la Fondazione Pio Manzù perché compito dell'ordine è proprio quello di sovraintendere tutta una serie di momenti formativi legati al mondo della progettazione, del design, del paesaggio, ma non dobbiamo dimenticare anche del design. E il design vogliamo proprio spingerlo in questi prossimi tre anni attraverso questa collaborazione cum lavorare, che è lavorare con, lavorare insieme, in questa sede meravigliosa del Museo MAGA di Gallarate gestita benissimo da Emma Zanella. Ringrazio anche Marina Bianchi Guenzani che è stata un po' l'artefice di questo nostro incontro perché è importantissimo che ci sia uno spazio, è uno spazio meraviglioso questo del MAGA dove si possono vedere le cose e imparare a vederle con altri occhi perché quello che dobbiamo insegnare è quello che i nostri architetti fanno e quello di essere visionari, di avere delle visioni e questo è un luogo molto stimolante a partire da questo spazio dove ci troviamo, che è questo laboratorio tessile con i filatti di Missoni che è un laboratorio meraviglioso dove i lavori che voi vedete esposti sono fatti dai bambini e dagli elementari. Vorrei iscrivermi anch'io qua perché è veramente meraviglioso. Io adesso vorrei dare la parola per raccontare che cosa sono questi dialoghi del design. Prima alla fondazione Pio Manzù rappresentata qui dal figlio Giacomo Manzoni e poi dopo al nostro referente della commissione design ed economia circolare, architetto Giorgio Caporaso. Ringrazio comunque tutti coloro che hanno collaborato qui al MAGA per il buon esito di questi eventi. Grazie. Grazie, buongiorno. Innanzitutto un ringraziamento a Emma Zanella che ci ospita in questo bellissimo museo che ho avuto modo di visitare fin dagli albori per le mie presenze bustocche ed è sempre un piacere tornare. Ringrazio Elena Brusa Pasquè perché con lei abbiamo iniziato questo percorso di collaborazione che sta già dando degli ottimi frutti quindi siamo molto contenti di questa collaborazione. Ringrazio poi anche Giorgio Caporaso che ovviamente è responsabile del Dipartimento Design dell'Ordine degli Architetti che poi illustrerà nel dettaglio queste lecture che abbiamo impostato. Abbiamo voluto collaborare ovviamente con l'Ordine degli Architetti su questa visione del design che è un po' diciamo la nostra mission della Fondazione perché con tutto l'archivio di mio padre Pio Manzu abbiamo voluto portare avanti questo discorso e cercare di capire oggi nella contemporaneità quali sono le figure anche tra i giovani che per spirito e anche per capacità si avvicinano a quello che è stato il pensiero di mio padre. Quindi la Fondazione vuole portare avanti sì diciamo tutta la parte dell'archivio con organizzazione di mostri ed eventi però guardare anche al futuro e quello è un po' una visione trasversale che ci siamo dati come fondazione e che ultimamente ci è stato riconosciuto. Queste serie di lecture abbiamo voluto dare un po' una visione generale del patrimonio del design soprattutto quello italiano coinvolgendo direttrici e curatrici di importanti musei, aziende del panorama del design e anche una visione da un punto di vista curatoriale come vengono organizzate le mostre e tutto quello che è la procedura per poter arrivare poi a una mostra finita. Quindi speriamo che queste lecture possano essere di gradimento al pubblico che verrà a visitarci. Grazie. Prima di passare la parola a Giorgio Caporaso volevo ricordare che la partecipazione alla Commissione Design ed Economia Circolare dell'Ordine eroga crediti ai partecipanti che possono anche non essere solo architetti iscritti all'Ordine di Varese ma tutti coloro che si occupano del mondo del design. Lo dico anche per gli amici e gli appassionati di design che frequentano la Fondazione Maga. E poi abbiamo questo autorevole nostro iscritto che ha anche una storia molto interessante e i suoi progetti sono stati esposti alla Biennale di Venezia e anche lavora con Adi. E' una persona veramente straordinaria che ben rappresenta la volontà del nostro ordine di allargare l'interesse a tutti i nostri iscritti. Grazie Giorgio. Troppo brava Elena. Grazie. Ma permettetemi anche velocemente una carrellata di ringraziamenti a Emma. Tra l'altro per me è sempre entusiasmante e affascinante venire al Museo Maga ho già intravisto qualcosa di nuovo nella biblioteca che devo sicuramente venire a approfondire. Grazie tante a Elena, la nostra Presidente, che mi ha dato questa fiducia e a tutto l'ordine e grazie tante a Giacomo per questa collaborazione importante. Ringrazio anche tutti i componenti che già ci sono della Commissione Design Economia Circolare che presiedo insieme a Francesca De Tomasi. Come diceva Elena, la Commissione è aperta a tutti. non solo agli architetti iscritti all'ordine, ma a chi vuole approfondire e si interessa e vuole collaborare a questi temi del design, dell'economia circolare e in parte anche dell'internazionalizzazione per delle connessioni. Perché vogliamo proprio che sia sempre più ampio. Il design è un'attività trasversale. vive di contaminazioni anche multiculturali e multidisciplinari. A me piace molto l'etimologia del termine design che è tradotto in progettare, quindi l'etimologia del termine progettare dal tardo latino proiettare. Cosa? Gettare avanti il pensiero, l'ideazione, per poi cercare di concretizzarla, trovare gli strumenti per concretizzarla. È un'attività culturale e intellettuale e quindi è stimolante e può essere un nuovo paradigma sempre per affrontare i temi nuovi che siamo costretti ad affrontare. E anche per questo è una disciplina che è molto affine a gestire la complessità aziendale, quindi aperto anche imprenditori e aziende che vogliono collaborare con noi. Anzi, le invito a farsi avanti, a contattarmi, a contattarci per creare delle belle contaminazioni e poi è anche uno stimolo per valutare nuovi aspetti anche da un punto di vista di approccio progettuale. Partiamo con questa rassegna. Abbiamo una tabella fitta da qui alla fine dell'anno che adesso vi elenco e vi consiglio a venire anche perché al termine di ogni lecture ci sarà anche un aperitivo in questo bellissimo spazio dove potremo anche dialogare, discutere, confrontarci e passare anche un momento conviviale insieme perché il design è anche piacere, gioia. Tenete conto che il design permia la vita di tutti noi. Tutto quello che noi abbiamo è progettato in qualche modo, sia che sia di un progettista noto, sia che sia di uno sconosciuto. Vi invito il 22 settembre alle 17.30 qui al Maga di Gallarate, in questa bellissima sede dove avremo questo primo incontro con Federica Sala, una bravissima design curator ma anche bravissima nella gestione di esposizioni, museali, eventi, veramente interessante, dell'Isabetta Cozzi che è la curatrice e la fondatrice del Museo Cozzi. Veramente interessante. Ma sono tutti interessantissimi. Il 20 di ottobre avremo due docenti del Poli Design. Parleremo di termini legati al design molto interessanti. Avremo quindi il professor Francesco Scullica, che tra l'altro è anche presidente, coordinatore del corso di Interior and Special Design e comunque del design degli interni. e poi avremo la docente, sono entrambi architetti, la docente Cinzia Pagni, che è anche una cara amica, con cui affronteremo degli argomenti interessanti, legati anche al dialogo sul concetto dell'ornamento. Avremo poi due ospiti altrettanto affascinanti, che sono Luciano Galimberti, il presidente nazionale di Adi, un amico, e Marco Bonetto, presidente di Bonetto Design. Penso che le presentazioni siano inutili. Come sono le presentazioni delle persone, relatori che parleranno, relatrici che parleranno il 10 novembre, che sono Elisa Storace, la curatrice del Museo Cartel, e Gloria Bargellini. Scusate, non ho messo gli occhiali, faccio un po' fatica a leggere. La curatrice del Museo Alessi. Che dire? Poi chiuderemo con il 24 novembre di questo 2022, con Domitilla Dardi, storica del design e curatrice del design del Maxi, per la sezione architettura. Anna Bernardini, la direttrice di Villa e Collezione Panza, presso il FAI, Fondi Ambiente Italiano, un bellissimo museo sempre nel territorio della provincia di Varese, e Emma Zanella, direttrice del Museo Maga, che chiuderà in bellezza e non c'è altro da dire su Emma. Io vi invito anche ad andare a visitare il sito dell'Ordine per tenervi aggiornati su queste iniziative che avremo e vi aspettiamo numerosi, chiunque senza timore, contattateci e saremo ben felici di darvi tutte le spiegazioni e di avervi tra noi. Grazie. Vorrei ringraziare anche una persona che non è qui oggi con noi, che è il professor Gene Guglielmi, che è stato un po' colui che ha tessuto le trame di questi rapporti e quindi lo vorrei ringraziare. E poi soprattutto non lascio per ultimo il direttivo, il Consiglio dell'Ordine, e Francesca De Tomasi, che non è qui con noi, ma che è un po' l'artefice, la coordinatrice di questa commissione design, internazionalizzazione ed economia circolare. Lasciamo a te l'ultima parola. Grazie Elena. Bene, io saluto, ringrazio, riassumo, partendo dal 22 di settembre, ore 17.30, 19.30, al MAGA, il primo incontro dei dialoghi di design con Elisabetta Cozzi e Federica Sala. Ingresso gratuito, rilasciamo i crediti e quindi credo sia un appuntamento con aperitivo davvero importante. E poi ne approfitto per ricordare ormai che la nostra stagione è ripresa a pieno ritmo. Già sabato questo apriamo il primo. Alla prima giornata saranno due del corso di formazioni per i docenti delle scuole di ogni ordine grado, un appuntamento che è già stato presentato e che per noi è ormai istituzionale da sempre. È un momento importante, dura l'intera giornata dalle 9.30 alle 17.30, è coordinata dal nostro personale educativo interno, quindi Lorena Giuranna, Francesca Chiara, Marica Brocca e Francesca Checchi, ma ospita anche docenti dell'Università Milano Bicocca, in particolare Franca Zuccoli, che ormai è uno dei, come dire, pilastri anche della nostra programmazione. Il corso è già usaurito, i posti sono già chiusi, credo anche per il secondo sabato il 17 di settembre, ma mi piaceva comunque andare a comunicare. E domenica pomeriggio il MAGA, all'interno della programmazione dell'assessorato alla cultura e della biblioteca civica, entra in uno degli appuntamenti del Festival della Festa della Filosofia, la dodicesima edizione. Qui da noi, alle ore 18, avremo come ospite Albo Versorio, che presenta la dodicesima edizione Il Tempo e, contemporaneamente, l'incontro è con Claudio Bonvecchio sul tema sincronicità e coincidenze Il Tempo secondo Young, alle ore 18 al MAGA. Ecco, tutto qui, quindi vi invitiamo a rimanere informati sul notiziario, sul sito del MAGA, sui nostri social, sul sito dell'Ordine, sul social dell'Ordine e quindi più di così penso che tutti potranno e possano avere informazioni dettagliate sulla nostra programmazione. Buona giornata a tutti. Grazie.